Amici sportivi, ben ritrovati, un cordiale saluto da Gianluca Di Marzio, 19esima giornata del campionato di Serie A all'Euganio, Padova-Napoli, un incontro fondamentale per il futuro dei biancoscudati, importante anche per un Napoli che in trasferta non vince da 100 giorni e quindi cerca all'Euganio i punti per tentare la scalata europea. Accanto a me per il commento tecnico c'è una vecchia conoscenza dei tifosi del Padova e anche di quelli del Napoli, Umberto Rosa che ha giocato con tutte e due le formazioni, quindi sicuramente personaggio adatto per commentarci un po' i punti tecnici di questa partita. Un saluto a Umberto Rosa. All'Euganio il punteggio è sempre di 0-0, il sinistro di Craig, pallone tagliato, non perfetto ancora Craig, prova il cross, Vlavic di destra, rete! Il Padova passa in vantaggio, subito foghi d'artificio all'Euganio, Goran Vlavic blocca il risultato dopo 5 minuti e 18 secondi. Si è verificato quello che stavo dicendo prima, già si intuiva qualche possibilità del Padova, tanto è vero che sulla prima è stato un calcio d'angolo, palla inattiva però mal calciata, alla seconda esecuzione ha pennellato e Vlavic con le sue grosse possibilità ha colpito benissimo. Vedete Amoruso che dà consigli ai suoi centrocampisti, potrebbe provarci Silvio Giampietro, parte la rincorsa, poi la barriera del Napoli si ferma, ancora Giampietro, pallone a giro, taglia la terra Miracola, Amoruso! Che si mangia un gol già fatto! Un grossissima occasione per il Padova che conferma quello che avevo detto prima, troverà grosse difficoltà in Napoli, va bene, era un calcio piacato però vorrei trovarle un attenuante al giovane Amoruso. Tredicesimo minuto di gioco, 1-0 per il Padova, ma potrebbe essere un divario molto più grosso, ancora Vlavic, cerca Amoruso, tutto solo davanti a tagliare la tela, poi perde il pallone, si gira, traversa di Amoruso, non è finita ancora, Vlavic, poi la bomba di Craig, allontana definitivamente pari, ma è un Padova champagne. Avanza il Napoli con il giovane Longo che scambia con Pizzi, attenzione a Pizzi perché è un po' una sfida nel fianco nella difesa biancoscudata, attenzione al numero 10 del Napoli, Pizzi, prova la conclusione, buon aiuti in due tempi. C'è buona questa manovra adesso, questo contropiede biancoscudato con Gabriele sulla sinistra, prova il cross, Amoruso, per un soffio ha mancato l'aggancio, Umberto. Amici sportivi ben ritrovati per il secondo tempo di Padova-Napoli. Lo scambio con Longo, poi cerca proprio Buso, non è giornata come diceva Umberto Rosa per Renato Buso. Avanza Gabriele sulla sinistra, lo scambio con Gian Pietro, avanza, palla al piede, il libero biancoscudato, poi Amoruso servito in aria, perde palla, supera, taglia la tela, in aria Amoruso, rete! Il Padova raddoppia grazie ad una prodezza balistica di Nicola Amoruso che poi va a festeggiare sotto la curva che lo ha sempre incoraggiato durante la gara, anche nei momenti difficili per questo ragazzo. che si è sbloccato, ha ritrovato la via della rete con una prodezza incredibile, ha dribblato anche, taglia la tela, rete di Amoruso. Ecco, si è verificato quello che parlavamo prima, Amoruso è un giocatore che in qualsiasi momento può mettere in condizione la squadra di segnare o far segnare. tecnicamente molto valido e direi che quasi completo, se arricchissi un po' in un gioco di testa ancora, dovremmo dire che il Padova quest'anno tra Amoruso e i Bravici è stato potenziato a livello attacco. Quarto minuto e 32 secondi, il Padova chiude la pratica Napoli grazie a Nicola Amoruso, raddoppio importantissimo ai fini del risultato, quello del bomber di Cerignola che ritrova l'avvio della rete dopo due mesi e mezzo, Nicola Amoruso ha ritrovato il gol, attenzione a Goran Vlaovic, colpo di testa che esce in un soffio, è un Padova travolgente adesso. Si sta verificando quello che si poteva aspettare, nel calcio è molto difficile pianificare però, il Napoli è molto deludente in fase di difesa. La mancanza, ripeto, di Cruz li ha messo in condizione di non poter tutelarsi in una maniera che nel calcio deve essere giustificata, perché non puoi dare tutti quegli spazi. Chiaro che adesso è ancora più difficile, speriamo che il Padova non abbia quei momenti, che non è più difficile, come capita anche nelle partite tipo Atalanta e Piacenza. Pizzi, la conclusione in area del numero 10 del Napoli, e buon aiuti, si arrabbia un po' con i compagni, con questo è il pallone pari al centrocampo, adesso il Napoli prova a rendere un po' la gara più viva. Pizzi, Buso servito sulla destra, cerca il cross, colpo di testa di Rosa, poi l'intervento di Gabrieli, ancora il cross, poi colpo di testa da parte di Quicchi, adesso il Napoli tutti in avanti alla ricerca del 2-1 Pecchi, posizione di fuorigioco, non secondo Nitti, e poi Pizzi realizza il gol del 2-1, e qui c'è forse da rivedere un po' la posizione di Pecchi, Umberto. Sì, è difficile giudicare, ma lì chi dà il parere è il guardia a linea, è più che l'arri, è lui che è in linea, che è la situazione, evidentemente, forse si è inserito bene. Sì, dovrebbe essere in posizione valida, 3-1 se bisogna tentare il pareggio. Attenzione, di Napoli, tutto solo davanti a Buonaiuti, che salva con i piedi, Napoli vicino al pareggio. Sì, vedo un palo più tranquillo, passata la paura, si è riorganizzato e si è molto più dura per il Napoli. Longhi, la conclusione che esce di un soffio a lato, e forse sarà l'occasione per l'ingresso in campo di Cafu Coppola, che entra al posto di Sconziano, che evidentemente non ha ancora dei problemi fisici, e quindi se Andreani inserisce Coppola, che dovrebbe schierarsi sempre sul settore di destra. Sì, penso di sì, non faranno la stessa situazione, non è che cambia nulla, praticamente. Gian Pietro chiama lo schema lungo, cerca il cross per Amoruso, buono lo stop, scambia con Longhi, avanza Longhi, il struttore di destra, può provare la conclusione, cerca il cross, Vlavic, colpo di testa, è rete, il Padova fa tris nel momento più importante sicuramente della gara, nel momento migliore del Napoli, il Padova colpisce con Goran Vlavic, c'è ancora un colpo di testa del giovane croato e il pallone finisce in rete per la terza volta. Io questa volta voglio essere un po' presumptuoso, si è verificato quello che avevo detto prima, e vuol dire che ancora mi mantengo un pochettino di calcio. Gli anni acquistano esperienza, si continuano così, diventano giocatori delle grosse squadre. 3 a 1 il punteggio, quindi il Padova ha ottenuto la terza rete nel momento migliore del Napoli, nel momento in cui il Napoli premeva la ricerca del pareggio, ha colpito il momento giusto quindi la formazione di Sandreani, grazie a questa insuccata di Vlavic, ancora Tarantino, prova il cross, Giampietro, Buso, prova il cross, Agostini di testa, facile facile per buon aiuti. Longhi, capitano del Padova, tornato contro il Napoli a grandi livelli, buona partita la sua, Fiore super in dribbling un avversario, cerca e trova Maurizio Coppola sulla destra, ancora il centrocampista romano, cerca il cross, Fiore al volo, rete splendida di Stefano Fiore, che adesso improvvisa uno spogliarello con la maglia scaraventata a terra, evidentemente la rabbia per restare fuori, l'entusiasmo per il gol, è chiaro che quando un giocatore rimane fuori ha poche possibilità di mettere in mostra le sue qualità e poi magari segna, no? Certo, grande giocata del Padova, la conferma di quello che abbiamo detto prima, che Fiore può essere un giocatore che al momento giusto dà la sua collaborazione e può essere l'arma in più, come hai detto te, per il Padova verso il finale del campionato e raggiungere una salvezza tranquilla. Ti ha fatto perdere la voce, Umberto? No, sono un po' con una tracheiti, purtroppo ho presso freddo, non è la passione che mi rimane ancora per il calcio. Quarantesimo minuto, arrotonda il punteggio, la formazione di Mauro Sandriani grazie ad una giocata davvero pregevole di Stefano Fiore che al volo ha realizzato, attenzione, buon aiuti ancora su Agostini, la conclusione respinta dal portiere del Padova, poi c'è questo calcio punizione fischiato dal limite per il Napoli, anche se forse era dentro l'area. Sì, poteva essere anche rigore, ma comunque non succede niente, non è che cambiasse molto. Ancora occasioni da rete comunque in questo incontro, come dicevi tu prima. Una cosa così, rimango un po' con la bocca aperta, dato che poteva essere una partita di tantissimi gol, non so, 8 a 4, 9 a 5, sempre a favore del Padova, no? Che sia chiaro. Gian Pietro curato dai medici Rino Baron e Gigi Munari, risultato su 4 a 1 grazie alla prodezza di Stefano Fiore che ha raccolto al volo un cross di Coppola, appena entrato tre minuti, giusto il tempo di firmare il quarto gol di questo incontro, sicuramente grande spettacolo all'Euganio e su Telenuovo per tutti gli appassionati sportivi. Calcio di punizione per il Padova, Nicchi di Arezzo fa allontanare la barriera, l'incaricato dovrebbe essere Arturo Di Napoli, la punizione di Di Napoli e la rete da parte di questo ragazzo che realizza un altro gol importante con la maglia del Napoli, il gol personale naturalmente. Grande penelata di Napoli, deve aver avuto la possibilità di aver visto qualche cassetta di Maradonna e ha assimilato, grandissimo gol, gol diciamo europeo. Evidentemente la pioggia è caduta in questi giorni. Il fatto che la gente non se ne rende conto tante volte, ma uno che lo ha praticato il calcio lo denota subito. 48 minuti e 20 secondi, sono già passati tre minuti di recupero che Nicchi ci aveva fatto capire di voler recuperare. Evidentemente la partita gli piace, no? In questa occasione. E' meglio che fischi la fine perché non c'è più niente da dire e andiamo tutti a casa a verse un bel tè caldo. Fiore, Fiore, avanza, cerca il cross, Amoruso di testa e ancora un'occasione. Ancora un'altra occasione incredibile, mai visto tante occasioni di gol. Guarda che se il taglia la tela non riusciva a sfiorare la palla è quasi sicuro che era il quinto gol del Padova. 4 a 2 ma Padova che sfiora la quinta segnatura grazie ancora a Nicca Amoruso che ha fatto un grande secondo tempo. Nicchi D'Arezzo adesso fischia la fine di questo incontro, il Padova vince 4 a 2, rilancia le sue quotazioni, salvezza, va a festeggiare sotto la curva giustamente dopo una buona prova. Si è chiaro, i giocatori devono essere molto soddisfatti ma in questa soddisfazione devono tenere conto che il campionato ha una continuazione e che domenica avviamo un'altra gara molto difficile a Torino contro il Torino e se riusciamo a fare un risultato utile il Padova si può incaminare su una strada che lo può portare più tranquillamente alla salvezza. Io ringrazio il mio collega, commentatore, tifoso, oggi un po' tutto per Umberto Rosa, lo ringrazio, lo aspetto ancora a farmi da accompagnatore tecnico nelle prossime settimane quando sarà disponibile. Saluto e ringrazio voi amici telespettatori, vi do appuntamento per lunedì prossimo per Torino-Padova e vi auguro buon proseguimento di giornata con i nostri programmi. Risentirci.